Bella a tutti asfaltoni e benvenuti su Theontube, bentrovati eccoci in questo video per andare a vedere la solita rubrica del venerdì la settimana scorsa non abbiamo fatto la rubrica in quanto c'erano pochissimi eventi, se non le missioni ma erano tutte abbastanza semplici forse due potevano essere un pochino più impegnative e poi c'era solo una CH come novità, la CH del Stingray adesso invece questo venerdì iniziamo subito con un nuovo evento speciale, la Spania GTA 2015, GTA Spano grossa fantasia diciamo nel nome, andiamo a vedere questo evento, intanto sono finiti anche gli altri eventi della Starway allora eccolo qua, 350 le condizioni da andare a fare per completare l'evento, queste che vediamo in vetrina sono un po' le auto che dovrebbero servire andiamo a vedere subito quanti livelli ci sono, ben 19 livelli per andare a prendere sicuramente molti progetti e sbloccare l'auto della Spano ma andiamo subito a vedere i premi relativi alle condizioni allora un progetto dopo 25 condizioni, un altro dopo le 70, un altro ancora alle 120 e poi andiamo sulle 200 con il pezzo di importazione 2,90 un altro pezzo di importazione, a 3,40 l'adesivo quindi una livrea particolare, a 350 un altro pezzo di importazione ok, non sono premi esagerati, questo dobbiamo andarlo a dire, ovviamente se ci serve aiuto qui vediamolo sulla sinistra nel negozio sicuramente c'è il pacchetto eccolo qua, prima di aprirlo però o di poterlo shoppare dobbiamo accedere alle 145 condizioni andiamo a vedere un attimo la frequenza, 10% quindi un pacchetto classico, non sappiamo quanto costa ma ipotizziamo intorno ai 1000, essendo una classe S ci sono ancora i pacchetti della Chevrolet Corvette Stinger per chi volesse terminarla a pagamento cosa che è soggettiva, diciamo, dipende quanto vi manca pacchetti della Pagani HP, barchetta, zonda, quindi potrebbe esserci c'è anche la chiave, perfetto, quindi ci sarà un altro evento con la chiave che poi andremo a vedere piano piano allora, qui dicevamo ci sono i 16, 17, 18 livelli più il diciannovesimo finale con le varie auto, iniziamo subito a vedere la prima auto una Jaguar allora, vediamo qui quante condizioni andiamo a fare sai, ok, ci sono già le stelle, quindi evento un po' come era quello passato della della Dracuma e andiamo a vedere qui un progetto tre stelle, andiamo a prendere 60 gettoni e altri tre progetti questa dovrebbe essere un'auto abbastanza comune andiamo un po' a vedere no, proprio detto e questa qui, quindi, è l'auto del pass quindi se non abbiamo il pass non possiamo partecipare a questo evento allora, di questo evento poi andremo a fare, ovviamente un video ogni giorno per andare a completare le varie missioni che, al momento, 1.17, 1.16 1.15, 1.14 il tempo da battere poi dopo li vedremo nel dettaglio con dei video separati comunque, facciamo una carrellata veloce per andare a vedere quanti gettoni si potrebbero prendere qui altri 60 con l'Aston Martin 1.77 ok, già inizia a essere comunque un evento esclusivo perché sono macchine che non tutti hanno l'Aston Martin 1.77 non ricordo nemmeno di averla nell'altro account quindi non saprei e poi qui abbiamo la Spania GTA in prova gratuita da potenziare, quindi il suo livello minimo quindi potrebbe essere non troppo facile e semplice fare il tempo di 1.24 per andare a prendere i 120 gettoni in palio quindi sono già a 2.40 qui ce ne sono altri 60 andiamo ai 300 qui con la Nissan meno male in prova gratuita quindi se arriviamo fin qui possiamo giocarla anche non avendo la chiave dell'auto e non avendola vinta nel Grand Prix e questa è la macchina eccola qua no, è la macchina che c'è il Grand Prix qui ci sono altri 60 gettoni in palio per la Glicnaus 004C anche là in prova gratuita poi di nuovo la Spania sempre in prova gratuita con altri 120 quindi qui andiamo a 4.80 la Brabham ok, sempre macchine abbastanza esclusive ma auto di vecchi pass quindi sarà difficile per chi non ha avuto tutti i pass andare avanti e che anche per chi inizia adesso questo purtroppo è un po' una cosa spiacevole per chi inizia a giocare adesso e non poter fare tutti questi eventi pur avendo il pass perché secondo il mio punto di vista che comunque è personale per chi aveva il pass potevano mettere una macchina magari l'auto del pass per poter arrivare a un po' di condizioni per poter arrivare almeno a fare le condizioni questa è la Valkyrie Valkyrie almeno per arrivare cioè a fare le condizioni da arrivare al 18esimo livello e poter fare anche quello magari mettere i premi un po' più alti questi premi qua però questa è la politica della Gameloft è la loro che non è condivisa da molti qui intanto 240 si sale si sale con i gettoni scorriamo un po' veloce perché tanto inizia a essere abbastanza esclusivo qui vediamo che c'è la Stone Martin 1 ecco stellata quindi dalla quarta a quinta stella in poi altri 90 e quindi come quello della Tracuma si dovrebbe riuscire ad arrivare abbastanza avanti qui c'è la possibilità di andare a vincere la chiave della della Brabham però bisogna portare l'auto a 5 stelle quindi andare a investire vediamo se per caso ok qui la Glickenhaus ancora anche lei qui non c'è la possibilità di vincere la chiave perché ci sarà c'è un evento dedicato e anche questa vedete questa auto del pass a 6 stelle bisogna portarla a 5 stelle diventa un po' esagerato praticamente è un po' troppo incentrato sullo shop ma ognuno è libero di fare ciò che vuole ciò che può comunque ci sono tanti tanti premi in palio e tanti gettoni anche in palio che arrivano inizia a essere qui nei 90 ad ogni livello questi qui sono livelli che difficilmente si riusciranno a fare perlomeno parlo per me ovviamente per qui avere tutte queste auto e averle anche a 5 o 6 stelle non è cosa da poco ultimo evento con la Spagna qui bisogna avere l'auto quindi bisogna averla sbloccata per andare a prendere i premi e poi averla almeno guardate questo è buono averla a 3 stelle riuscire ad arrivare qui sono 480 gettoni solo quelli e poi l'evento finale che ci regala come sempre tanti gettoni in base alle posizioni in cui arriviamo tanti pezzi di importazione tanti crediti ma qui bisogna avere sbloccato l'auto quindi abbiamo visto un po' velocemente l'evento e vi ricordo che faremo anche i vari livelli fin dove arriveremo con l'altro account e niente quindi continuate a seguirci andiamo a vedere adesso gli eventi giornalieri allora gli eventi giornalieri come sempre ve lo ricordo se vedete questa immagine qui che è carica ma non carica nulla e dobbiamo andare qua nelle impostazioni ancora in impostazioni svuotare lo storage svuotare la cache e poi dopo o a riavvio oppure dopo un po' che giochiamo vedremo le icone quindi non disperate se non le vedete ma dopo un po' le rivedrete allora questi sono tre eventi giornalieri nuovi intanto qui mi vado a ritirare i premi automatici ricordando che per avere la funzione del ritiro automatico dei premi bisogna arrivare a livello garage 12 questo ovviamente lo dico per tutti i nuovi in questo modo riuscite a fare le auto del garage anche abbastanza velocemente qui un bel po' di crediti basta avere un'auto a 6 stelle senza gareggiare e allora andiamoli a vedere il primo evento ok no questo l'avamo già visto arriva a Halloween abbiamo già fatto un video dedicato quindi alla fine sono due eventi nuovi che uno è la rivolta dell'auto quindi corvette stingray se avete sbloccato l'auto possiamo andare a fare il solito riot chiamato anche dove andare a vincere pezzi di importazione stando nei migliori 8% e anche avere la possibilità di trovarli nei vari pacchetti e quindi anche qui nei giornalieri questo venerdì c'è solo l'evento nuovo la caccia all'auto della zonda HP barchetta nella quale possiamo però andare a vincere la chiave quindi abbiamo dura 10 giorni possiamo portarla alla sua massima stella che è la quinta e una volta avuta la quinta stella possiamo vincere la chiave battendo il tempo di 32 secondi con l'auto barchetta qui dice usa un'auto a 5 stelle ma poi sotto specifica pagani zonda HP barchetta è un po' forviante quel tipo di messaggio ma è così come vi ho detto perché altri eventi fatti in questo modo erano fatti così sarebbe stato troppo facile vincere la chiave con un'auto con 5 stelle sarebbe bastata la Vulcan che non sarebbe stato male ma adesso andiamo a vedere un attimo quest'auto nel suo specifico quindi andiamo a vedere quante stelle quanti progetti servono per portarla al massimo ma sappiamo che è una classe A quindi siamo oltre i 200 abbiamo già detto 5 stelle il suo grado massimo è 3678 non è nemmeno un grande grado però ho detto una sciocchezza perché i progetti sono 187 quelli della Stingray erano 134 se non sbaglio io non ce l'ho fatta a completarla tutta perché ovviamente bisogna stare molto dietro oppure investire dei gettoni però diciamo che si può fare ci sono 11 progetti garantiti quindi dai 187 diventano 176 quelli da trovare nei vari pacchetti abbiamo 3 pacchetti batti il tempo di 37 batti il tempo di 33 con un'auto di livello B non andiamo a vedere la pista la pista è corta sui 30-35 36 secondi ci mette col touch drive perché si può fare anche col touch drive e si vanno a vincere vabbè facciamone una prendiamo un'auto di classe B vediamo con questa se riusciamo a fare il tempo 33 secondi all'obiettivo non è facilissimo con quest'auto sicuramente non ci riesco e parte l'ottimismo ma vediamo vediamo perché magari questa ovviamente la andiamo a fare in manuale però ci sono auto anche più prestanti che volendo le potete fare col touch drive e voi mandate avanti soltanto le gare anche perché fare tutte queste gare diventa molto nuiglioso diventa molto ripetitivo non mi hanno fatto prendere la rampa prendere anche l'altra fare bene lo stesso vediamo un po' ci siamo ampiamente 30 secondi quindi da abbastanza semplice tempo da fare qui ho sbagliato non so perché mi è entrato in questa maschera eccolo qua prendiamo il garantito e 1 2 e i 3 pacchetti vediamo se siamo fortunati qui anche qui cara game loft te lo diciamo dovresti aumentare un pochino il drop la percentuale di uscita dei progetti perché le ultime 2 caccia all'auto sono state davvero scarse come come uscita dei progetti allora fatto anche questo evento quindi terminati i giornalieri per ora ovviamente se usciranno altri giornalieri durante la settimana saranno diciamo discreti faremo anche il video passiamo al multigiocatore multigiocatore sono finite tutte e due le vecchie serie qui niente di che ovviamente giocando poco non si arriva molto in alto andiamo a prendere anche questa poi soprattutto questo essendo un account secondario do precedenza all'altro anche se poi faccio il video con questo si per capire meglio se a volte servono le auto di possesso oppure se servono se si possono usare a livello gratuito nei vari eventi cominciamo con il solito uno contro uno e infatti è già partito uno sbadiglio perché qui ragazzi eccolo qua il solito premio di crediti che per carità potrà far comodo ma 12 gare per vincere 250 mila crediti e poi si più quelli delle gare si fa si fa un bel gruzzolo però non è molto allettante considerato anche se ci sono tanti altri eventi da fare come ad esempio una CH vale la pena perdere tempo secondo me nell'1v1 qui abbiamo per l'appunto in prova la Spano ma lì rimane gare San Francisco Himalaya Shanghai e Osaka potrebbero esserci utili dopo nelle missioni settimanali la serie classica mondiale quindi questa è classica non c'è il fantasma non c'è la scia questa dovrebbe essere classica senza il primo pacchetto ok i premi iniziano da basso perfetto sono un po' sempre i soliti premi hanno messo hanno cambiato quindi 200 oggettoni in palio alla fine il pacchetto Legend ai 25 mila dove però abbiamo anche due progetti della vision potremmo trovare quindi inizia ad essere questo finalmente è un pochino più carino trovare altri progetti vediamo al platinum anche qui possiamo prendere due progetti della vice della Zenvo buono diciamo qui dal mio punto di vista potremmo considerarlo un piccolo miglioramento lascerò le corvette anche al gold vediamo un po' al silver ok qui siamo rimasti sempre con le solite qui potrebbero mettere ad esempio anche qui se siete d'accordo ragazzi mettete mi piace perché dobbiamo far sentire anche la nostra voce potrebbero mettere a questo punto le carte jolly se non sapete cosa sono le carte jolly o come si usa c'è un video nel canale cercatelo carte jolly sono quelle carte che possiamo usare in qualsiasi diciamo auto in base al livello e alle stelle anche lì l'hanno complicata un pochino andiamo a vedere i premi finali nelle 3000 posizioni un progetto della zembo e 10 gettoni poi andando ovviamente a salire raddoppiano tutti i premi fino al primo che va a prendere 60 progetti della zembo e 150 gettoni premi lega buoni perché vanno a corrispondere ai pacchetti che abbiamo visto prima quindi ad esempio arrivando in legend andiamo a prendere un pacchetto gold un pacchetto platinum e un pacchetto legend dove avete visto le auto che possiamo trovare quindi anche per chi non ha la vision o non ha la chevrolet diciamo i pacchetti danno la speranza di poter trovare qualcosa andiamo a vedere il multiplayer 2 Glickenhaus 004C auto in prova traguardo sarà 3 o 5 mila andiamo a vedere 3000 con impalio solo 50 gettoni 150 mila grid e un pezzo di importazione i premi posizioni sono sempre i pacchetti kit carrozzeria e premi di lega crediti quindi questo mp2 non è particolarmente allettante ma c'è da dire che si gioca senza benzina quindi possiamo giocarlo tutto il tempo che vogliamo possiamo divertirci a guidare quest'auto tutto il tempo che vogliamo e qui abbiamo visto quindi il multiplayer è partito il clash anche se appartiene al club non so se è un multiplayer eccolo qua quindi potete iscrivervi noi ci iscriviamo ora poi passeranno i 3 giorni di attesa per i club iscritti vediamo se fa vedere qualcosa nei premi cosa c'è di nuovo nel clash no non lì non l'ha ok sono i soliti diciamo poi in base al livello qui c'è il nostro livello del garage 74 milioni quindi siamo nella fase 0 249 milioni e possiamo andare a prendere questi punti questi premi partecipazione vincitore più i premi ovviamente della classifica finale sarebbe buono un buon 5% ma anche il 10 dai ci potremmo accontentare ovvio che con questo club purtroppo un po' piccolino non si riesce ad arrivare a quelle posizioni lì ok quindi continuiamo un attimo stagione club sempre la stessa mancano ancora 6 giorni quindi per terminarla poi al massimo ci sarà una mini stagione o qualcos'altro nella prossima settimana allora gli aggiornamenti ovviamente sono finiti andiamo a vedere le missioni della stagione eccoci qua episodio 4 abbiamo visto prima ne abbiamo fatto già una distruggi oggetti in una singola corsa 3 perché era abbastanza semplice completa corsa nel multigiocatore bastano 5 quindi qui basterà giocare di continuo al multigiocatore il Cairo o San Francisco San Francisco se non sbaglio era anche nell'uno contro uno però sono piste abbastanza facili non c'è la posizione quindi basta giocare al multigiocatore per provare a scalare i vari livelli le varie linghe raccogli tanniche nitro in modalità carriera perfetto con auto di classe B o C dobbiamo andare nella modalità carriera qualsiasi pista va bene utilizzare però un'auto di classe B o C e dobbiamo raccogliere 16 tanniche di nitro possiamo farlo anche in mille gare in 16 gare non per forza in uno con progetti nel negozio leggendario 15 avete visto il negozio leggendario è quello dove ci sono i 6 progetti del layout cioè le 6 carte che si possono acquistare a crediti o a gettoni ci sono sia pezzi di importazione che pezzi delle auto oppure anche quelle con le monete di scambio rosse dove possiamo prendere generalmente dei pezzi di importazione o dei progetti di alcune auto specifiche ottieni punti di reputazione per il tuo club 2000 basta giocare come sempre percorri un numero totale di metri nel multigiocatore lo stesso sempre Cairo e San Francisco quindi si fanno insieme arriva primo nel multigiocatore Cairo e San Francisco quindi qui in queste piste arrivando primi si fanno un sacco di missioni vedete ben 4 raccogli tanniche nitro nel multigiocatore ok quindi sempre in quelle piste lì passiamo alle missioni top le 4 missioni top andiamo a vedere se hanno un minimo di difficoltà sembra di no esegui espulsioni 360 in una singola corsa questa potrebbe essere quella un pochino più complicata esegui espulsioni quindi questa in qualsiasi gara e in qualsiasi modo esegui acrobazie in qualsiasi gara in qualsiasi modo tempo in volo in una singola corsa 5 secondi anche questa abbastanza semplice e qui dobbiamo cercare di fare le giornaliere magari o in carriera dove ci sono gli avversari e fare 4 espulsioni col 360 quindi tutto abbastanza semplice direi che le novità sono terminate qui eccolo qua questo è il negozio leggendario che vi dicevo dove possiamo prendere i progetti di queste auto oppure prenderli di qua con le monete di scambio rosse quello che c'era da vedere l'abbiamo visto le novità diciamo che sono terminate quindi ci salutiamo mi raccomando se il video vi è piaciuto vi chiediamo di mettere un bel mi piace anche soprattutto se condividete le nostre critiche costruttive contro contro verso gameloft al fine di migliorare un po' il gioco che fondamentalmente sono tre una quella di rinnovare i pacchetti questi qui per l'appunto che vediamo qua dove c'è il per 20 rinnovare il contenuto di questi pacchetti in modo da aggiornarlo anche con le auto più nuove migliorare un pochino il drop delle caccia all'auto perché non possiamo stare 24 ore su 24 a giocare per completare un'auto come secondo me non possiamo nemmeno stare a spendere 1000 euro per comprare i gettoni per poi andare a sbustare l'auto e completarla questi sono un po' i miei punti di vista personali se li condividete mettete un bel mi piace ragazzi se poi ancora non l'avete fatto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale non dimenticate di cliccare di lasciare un commento sempre i commenti sono sempre aggrediti vi rispondiamo sempre poi la campanellina la famosa campanellina delle notifiche se la cliccate sapete sempre quando sono online i nostri video detto questo ci salutiamo e ci vediamo presto con altri video soprattutto con l'evento speciale della Spano ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti